Al Monaco Yacht Show abbiamo incontrato l'ingegnere Vincenzo Poerio, amministratore delegato di Tancoa, un cantiere genovese specializzato in Mega Yacht Custom. Ingegnere che barca avete qui in banchina? Qui a Monte Carlo abbiamo un 50 metri costruito per un cliente europeo ed è la seconda della serie di 50 metri che abbiamo costruito. Poco fa in una conferenza stampa avete presentato un nuovo modello, il T760, 76 metri di Mega Yacht con delle chicche veramente esclusive, piscine con fondi in cristallo, murate abbattibili. Quali sono le particolarità di questo nuovo yacht? Beh è uno yacht che si adatta alle esigenze di clienti particolari, ovviamente saranno costruite forse una unità di questa imbarcazione e ovviamente cerchiamo di dare tutto quello che di contemporaneo, nuovo e tecnologicamente conosciuto c'è sul mercato in modo da soddisfare le esigenze dei nostri clienti. All'esigenza mi pare di capire c'è quella del contatto con il mare sempre maggiore. Sempre maggiore, oggi aumenta questo contatto, questa voglia di libertà perché tramite uno yacht si può allontanare da quel brutto momento che abbiamo vissuto e per chi può avere una propria isola felice su cui spendere tempo con i propri amici in una condizione di sicurezza. Questo ha portato al nostro settore a una crescita del mercato, è una voglia dei nostri clienti di investire in questi bellissimi mega yacht. Ecco a proposito di questo brutto momento che ha ricordato arriviamo da due saloni Cannes e Genova in cui la nautica sta dimostrando un fermento notevolissimo, pare anche qui a Monte Carlo ma lei lo potrà confermare? Assolutamente sì, Monte Carlo dopo due anni ha iniziato, il salone internazionale della nautica è più importante per i mega yacht, siamo qui ogni anno e si tocca con mano la voglia di tanta gente di costruire imbarcazioni. Mi auguro che questo venga preso come un grosso segnale in particolare per la città di Genova perché la Liguria oggi soprattutto nell'area di La Spezia ha molto sviluppato la nautica e che le nostre istituzioni possono concentrarsi su questa crescita anche perché la nautica è un mestiere che l'Italia ha nel proprio DNA, è un'attività industriale particolare che si abbina col turismo, con la crescita della creatività, con tanti indotto che cresce intorno a questo settore e che forse il nostro modo di fare, il nostro modo di essere italiano, che si abbina a cultura, al turismo, che rende l'industria della nautica importante. Spero che questo sia un appello a tutte le istituzioni che ci possono aiutare a crescere sani per i prossimi anni e rendere non solo la Liguria che lo è già forse ma la Genova in particolare un centro di costruzione di megaiotte di nautica da riporto. Anche perché qui a Monte Carlo ci sono le barche più grandi e più belle del mondo ma c'è tanta Italia, si sente veramente tanto italiano in banchina? Assolutamente sì, l'Italia ha nelle mani quasi un terzo della produzione mondiale, non dobbiamo perdere questo primato, dobbiamo avere le nostre istituzioni pronte a supportare questo settore, è un settore vero, comprano uomini ricchi ma chi ha i soldi li spende e dà veramente a lavorare un'industria forte, collegata e interconnessa con tanti altri settori. Quindi siamo qui con la voglia di firmare tanti altri contratti e con la possibilità che qualcuno ci dovrà dare di sapere anche dove costruirli.